Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova desilarante puntata di ti do una stella Ti do una stella, un video dove vedremo commenti più brutti sotto le migliori e peggiori applicazioni degli store Oggi devo ringraziare Manuel Sekiseki che ovviamente ci ha suggerito l'applicazione di quest'oggi E ha scritto il prossimo episodio fallo su Clash Royale Ma partiamo subito con i commenti così a bomba Il primo commento lo scrive Vince Surriscaldamento Ho comprato ieri un Galaxy A5 del 2016 che ha ben 2 giga di RAM Sul mio vecchio S3 Neo non c'era alcun tipo di surriscaldamento Perché qui dopo una partita il telefono arriva a 50 gradi? Perché? E si lamenta anche, c'ha la stufa gratis, c'è 50 gradi ragazzi 5 stelle su 5 Mentre Alessio scrive Clash Royale E' bellissimo e grazie di aver fatto l'altro aggiornamento del Arena 8 picco del ghiaccio e delle altre leggendarie che avete messo questo gioco Io l'ho messo in 1 classifica Sempre molto chiaro e senza neanche una virgola Grazie Alessio! Mentre Danilo si dà una calmata e scrive Clash Royale Bellissimo ma perdo spesso e lo tengo solo perché ce l'hanno tutti i miei amici e tutti gli youtuber Tutti Cioè te che stai guardando questo video? Sei uno youtuber? Guarda sul tuo telefono in questo momento Hai installato Clash Royale? Sì o no? Mettilo nei commenti, ti prego Tutti Mentre Leonardo scrive Fa cacare Oh un bel inizio Solo chi gemma Non ci faremo domande Sale il resto Perdono Perdi tre partite NVV Sale il resto Perdono Perdi tre partite NVV Una Ci sono script che ti fanno scendere In un attimo davvero Pessimo Occupa memoria E basta Ottimo Leonardo Ti sei spiegato benissimo come al solito Una stella su cinque E anche per questo Gli vogliamo bene a questi momenti Mentre Francesco molto tranquillamente scrive Basta Basta Non ce la faccio più Lo cancello Non è possibile che un giorno Ti ritrovi a 2450 coppe E i prossimi giorni stai quasi in arena Sei Basta Fa schifo Mi sono stufato L'ho disinstallato Basta Fa schifo Cinque stelle su Cinque Basta Perché? Mentre Francesco debunkera Questa applicazione scrivendo Tutto pilotato Ti fa saltare la connessione a suo piacimento E lo dico perché gioco solo in wifi con fast web Mi salta la connessione E mi si riconnette a partita praticamente persa Penosi Come si fa? Una stella su cinque Penosi Tutto pilotato Le scie chimiche Mentre Francesco scrive Pezzenti Parte bene Con l'aggiornamento i tornei si possono fare soltanto spendendo gemme Perché invece non li fate con le monete? Dovete indurre la gente a pagare per ricevere gemme Vergogna C'è solo l'agonia Vergogna Una stella su cinque Mentre Antonio scrive Bastardi Non è vero che siamo scarsi Questo gioco è fatto per guadagnare solo soldi E nessuno riesce più a salire di arena Senza comprare gemme e aprire bauli Io lo disinstallo E dovete fare anche una brutta fine Truffatori Ora va dal gabibbo Ora lo vedi? Ora lo vedi eh? Succede un marasma Mentre Andrea scrive Stronzi Porco schifo Come si fa ad vincere Se troviamo solo gente più forte? Hashtag Pilotato Ma il commento della puntata lo scrive Margherita Che ci spiega una cosa pazzesca del gioco E ce la rivela In anteprima Che scrive Epic Quelli che dicono che perdono troppi trofei E perché incontrano tizi più deboli e perdono Ma se sono più forti loro e incontrano dei tizi più deboli Dovrebbero vincere Ma non Se vincete poco è per lo stesso motivo Solo che non perdete Se vincete poco è per lo stesso motivo Cioè che incontrano perso Quindi anche se Se è perché incontrano Solo che non tutti Margherita non ho capito 5 stelle su 5 E con questo magnifio aumento di Margherita Chiudiamo la puntata in maniera veramente stupenda E stupefacente La storia verrebbe veramente mutata in una maniera pazzesca Capitano Ci stanno attaccando in più di 300 soldati Come facciamo a controbattere? Siamo in pochissimi Povero soldato sciocco Ieri l'altro ho caricato 30 euro sulla mia poste pay Possiamo vincere tutte le partite che vogliamo Adesso lasciami comprare delle gembe Capitano lei è un genio E vi cheremo Capitano lei è un genio